Eccoci qua, ciao ciao, mandava un dolcetto così al volo al volo, questa è una sfoglia, vedete? Eccola qua, adesso passa sfoglia, ecco io ci metto un po' di buccia di limone, vedete? Ecco qua, ecco fatto, vedete? Ecco, grattugiate un limone e poi la buccia la mettete qua, un limone medio, poi prendo un po' di zucchero di canna e ce lo metto, vedete? Zucchero di canna, ecco qua, voilà, e poi ci metto un po' di zucchero semolato, quello normale, eccolo qua, questo è un dolcetto molto interessante ragazzi, è semplice, ma è buonissimo, è buono, sai che è buono, so che è buono, vedete? Poi arrotolate così piano piano, vedete? Ecco qua, vedete? Così, piano piano, ecco qua, eccolo qua, ok, adesso io prendo un coltello e faccio delle rotelline, va bene? Ecco qua, vedete come deve venire? Ressa poco se vede la grandezza, no? Sì, sì, fare delle rotelline, vedete? Così, poi una parte la passate nello zucchero, ecco qua, eccole, guarda che vi faccio vedere dentro come vengono, ecco qua, mettetele un po' distanti perché dopo queste si gonfiano, ecco fatto, vedete? Ecco qua, adesso passate un po' di uovo, ecco qua, così, leggero, leggero, eh? Tanto che dà un po' di colore, insomma, ecco, ecco qua, e poi mettiamo un po' di zucchero di canna sopra, ecco qua, ecco qua, la parte sotto con lo zucchero semolato e la parte sopra con lo zucchero di canna, va bene? E poi l'annate a fornare, e poi ve li maniate, l'annate a fornare, ecco, sono buonissimi, mettete un po' di zucchero così, tanto questi dieci minuti e soffatti, guardate che meraviglia, adesso li vado a fornare, eh? La man fornare? Mantenuto la distanza perché se gonfiano, adesso li vado a fornare, ciao belli, a dopo, eh? Ciao belli, a dopo. Guardate che profume, guardate che splendore, guardate che bellini, che roselline, guardate che carine, no, ma questi sono buoni comunque, al di là, carine, però sono proprio buoni, eh? questo è proprio, tu mozzichetti, e che devo dire, ragazzi, c'è, guardate quanto so carine, eh? ecco fatto, che roselline, mo se fanno un bel bicchiere di te, Girtare, che dici? eh? E poi ce li mangiamo, e poi due, tre per uno, e che ti dico a fa? Eh, Girtare, e dai, e va? Siccome scotta, non lo posso mangiare, scotta, scotta, eh, scotta, eh, scotta, eh, intanto io vi faccio vedere qua, ah, 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 buono pure che scotta però, eh, Girtare? ver? buono, buono, mmm, buon nanna, vero Girtare, ma non giù che è una meraviglia, semplici e buoni, io direi che un bel bicchiere di testa andiamo a fare davvero e dai e va allora andiamo a fare te noi ciao belli baci grandi sempre dal cuore e fate le seroselline che sono amore ciao belli ciao belli